Accountability pubblica, open government, valutazione e impatto delle politiche attraverso il coinvolgimento dei cittadini, i nuovi orizzonti della partecipazione pubblica. Questi i temi cruciali al centro del Puglia partecipa camp, partecipazione esperienze al futuro, il meeting promosso da Regione Puglia, struttura speciale comunicazione istituzionale, ufficio della partecipazione che si è svolto al teatro Cursal Santa Lucia di Bari. La Due Giorni è stata occasione per mettere a confronto realtà istituzionali di vario livello grazie alla partnership con l'Associazione Italiana Partecipazione Pubblica, il Dipartimento della Funzione Pubblica e le regioni Emilia, Romagna e Toscana nell'ambito della Open Go Week duemilaventiquattro durante la tavola rotonda sulla partecipazione di qualità come pilastro di politiche pubbliche efficaci e innovative introdotta dal direttore della struttura speciale comunicazione istituzionale della Regione Puglia e moderata dal presidente dell'AIP 2, si è sviluppato il confronto tra la direttrice del centro di competenza sulla democrazia partecipativa e deliberativa, la referente nazionale per le politiche di Open Government del Dipartimento della Funzione Pubblica e la presidente e la fondatrice di REFE, strategie di sviluppo sostenibile. Nel corso dell'evento l'ufficio partecipazione di Regione Puglia ha conferito un attestato di merito ai primi cento beneficiari degli avvisi, le realtà che per prime hanno attivato un processo partecipativo a livello territoriale contribuendo a diffondere in modo significativo la cultura della partecipazione nella comunità e nei territori.